Ecco la faccia della fatica, sta veramente soffrendo. Voi penserete che stia facendo un impervio a salita di montagna, in realtà siamo in palestra, ma è come se fosse là. Dai Doc, ce la puoi fare, vai! Hai il sorriso per la stampa, Doc! Manca pochissimo. Ha scollinato, ha scollinato, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Ha scollinato a posto, un commento, un commento dopo la salita, Doc. C'è ancora uno strappettino. Sì, l'ultimo. Noi chiudiamo il collegamento qua, perché altrimenti la situazione è imbarazzante. Ciao mamma! Ciao a tutti! Da qui giro, a voi la palla!